www.feyyaz.tv 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 Ma tu sei bellissima sei, sei singola fidanzata Sono fidanzata con tre persone E con me quattro Ma che non parte Amio, fa un video Stai bevendo? No, 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 adesso passiamo i video E' un po' d'acqua E' un po' d'acqua Cosa stai bevendo? Occhia l'acqua Me lo fai assaggiare? E' un po' d'acqua E' ormai si Eeeh